Genova con l'arrivo, l'enorme volume di arrivi che è avvenuto in questi ultimi sei mesi si è reso ancora più urgente proprio la riproposizione e la valorizzazione di questa figura che è il tutore volontario insieme con il garante per l'infanzia. Stiamo mettendo insieme un protocollo a firma del comune e del garante per promuovere la figura di questo tutore volontario che per la procura dei minori, per il tribunale dei minori è fondamentale perché devono nominare per forza una tutela per questi ragazzini qua che arrivano. I cittadini ce ne sono tantissimi che sono sensibili e sarebbero disponibili, occorre fare un piccolo corso di formazione, non so se sono 20 ore, non so quanto siano e poi c'è una commissione che stabilirà la validità o comunque se ci sono i requisiti per nominare il tutore, ma non servono requisiti speciali, serve solo molto cuore, molta disponibilità e molta attenzione per questo problema che vuol dire avere un bambino, un ragazzino magari da averne cura, da portarlo dal medico, portarlo a comprare un vestito, portarlo a mangiare una pizza, portarlo a casa con i tuoi figli e i tuoi nipoti.